Siglato un importante accordo tra la Questura di Campobasso e il Comune di Campobasso dal nome protocollo Zeus. Il protocollo d'intesa, promosso dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Anticrimine e della Polizia di Stato, è già attivo in molte città italiane e costituisce un modello di azione innovativo volto a contrastare condotte riconducibili alla violenza domestica e atti persecutori, con cui viene intimato al soggetto maltrattante di tenere una condotta conforme alla regge, anticipando così la tutela della vittima prima che si palesino condotte penalmente rilevanti. Il protocollo, sarei dire storico, perché incrementa, ci dà a disposizione un ulteriore strumento per la lotta alla violenza di genere. Possiamo ritenere che il Molise non è tra i primi posti in Italia, fortunatamente, per quanto riguarda maltrattamento in famiglia, per quanto riguarda atti persecutori e le violenze sessuali. E questo è un dato confortante, parlo non di numero assoluto ma di numero in percentuale rispetto agli abitanti. C'è un aumento, rileviamo che c'è un aumento dei codici, cosiddetti codici rossi. Grazie a questo protocollo riusciamo a intercettare, su segnalazione appunto del questore, gli uomini che agiscono violenza, provando ad attivare, grazie a servizi sociali dell'ambito territoriale di Campobasso, un percorso di recupero che soprattutto vada nella direzione di ricondurlo a comportamenti consoni e quindi evitando poi di dover trovarci nelle situazioni e quindi nei gravi episodi che in questi giorni sono sulla cronaca nazionale. Trecenti antiviolenze in Molise, Campobasso, Termoli e Disernia, circa 50 le donne presi in carico ogni anno. Chiaramente viene fatto un percorso che parte nei casi più acuti dal ricovero in casa rifugio, quindi in località protetta, segreta per sottrarre la donna alla violenza insomma, insieme ai minori se ce ne sono e poi vengono fatte azioni di reintegro sociale, a parte tutto il supporto psicologico, sociale, sanitario, quando serve, ma vengono fatte delle azioni di reintegro sociale, abitativo e lavorativo, corsi di formazione, borse lavoro e quant'altro, per rendere diciamo autonoma la donna ed evitare che poi possa ripiombare nella situazione da cui proveniva. Tante le iniziative di sensibilizzazione contro la violenza anche da parte della CGL. Questa giornata è da commemorare, noi però non ci siamo diciamo dedicati esclusivamente al 25 novembre perché abbiamo messo in campo tutto nel mese di novembre una serie di iniziative che termineranno il 30 di novembre con la presentazione del libro Mostri quando non c'è più l'amore di Giovanni Mancinone che è un giornalista molisano conosciuto dai più. Grazie a tutti.